Alla fine arriva l'accordo. L'incontro delle 11 a Palazzo Mosti tra il presidente Vigorito e il sindaco Mastella ha prodotto l'esito che tutti si attendevano. Certo c'è da mettersi all'opera, ma sapere che c'è una vicendevole apertura significa poter dare il là a tutto ciò che serve al Benevento Calcio per presentarsi nel migliore dei modi al prossimo torneo di Serie A. Per quanto riguarda il recente passato la società ci chiederà come giusto che sia e quindi inseriremo all'interno delle clausole del comune che rimane dissestato le spese che ha confezionato e che ha portato avanti, che legittimamente ha determinato e ha portato avanti. È giusto che il comune da questo punto di vista perlomeno faccia la sua parte in termini di natura normativa e legale. La società si impegna a realizzare tutto ciò che occorre perché il Benevento possa giocare in maniera preventivata, partì dalla Coppa Italia e poi successivamente, voi sapete che già inizia ad agosto la fase del campionato, in modo tale da determinare queste condizioni senza motivi di esilio per quanto riguarda il Benevento. Il sindaco da una parte, il presidente Vigorito dall'altra. Con questo impegno della pubblica amministrazione che ci sarà vicino per quelle che sono soprattutto le opere strutturali a servizio dello stadio, la società Benevento Caccio, come ha fatto per il passato, spenderà i soldi che occorrono entro la fine di giugno e entro la metà di agosto per garantire l'iscrizione al campionato, il riconoscimento da parte della lega e della FIGC della idoneità del campo, e aumentare la capienza significa fare delle opere, noi faremo le opere, ma a fronte delle nostre opere non è un do-to-tesse, ma è una conseguenza, desideriamo avere un'aderoga per l'aumento della capienza, per quelle opere che non sono di nostra pertinenza, ma che il Comune si è impegnato a fare.